inserire le carte o banconote inserire la chiave per parlare con un operatore digitare il tasto cancino oppure fare il tasto aspirico 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 1 vai cambiando la seramura vai cambiando la seramura so strange ah, what love does so strange what love does when you're all alone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.